Benvenuti in dialetto parmigiano per cui chiederei l'aiuto, visto le loro abilità labiali con la lingua, a Dimita Traico, Musa Bala, Riccardo Musetti, Lorenzo Adorni, Cristiano Gobardi e Fabio Lauria. Un applauso ai nostri campioni! Allora, prima abbiamo mangiato... La torta fritta, questa è la torta fritta, e questi non ci sono dubbi. Partiamo con la prossima portata. Tagliatele ai fonds. Tagliatele ai fonds. Un applauso a Riccardo! Tordèi d'Arbetta. Polenta e singhiera. E dopo tutto questo? Beh, acqua digestì, caffè. E per finire, se ancora abbiamo un buchino proprio qui nello stomaco, arriva Fabio con... Tordì e della cata. Il conto lo paga Lorenzo, perché è l'unico che non ha detto niente. Perfetto, pago io tutto. Dovevi rispondere in dialetto? Sì, giochi in casa, poco cazzo. Perfetto, paghi tutto. Grazie ancora!